Un nuovissimo video di questo gioco Lì già iniziamo Morto, di questo gioco Dobbiamo superare Dopo questa pubblicità di sto gioco Che fa schifo Giochiamo a questo gioco Dove questo quadrato è un po' ritardato Cioè Bisogna saltare Faccio due fps Di numero proprio Se scatti così non c'è manco Minecraft beta 1.1 Quanto lag quando faccio La registrazione Mi ammazzo Su sto gioco Che ti fa Quanto lag Cosa è successo Buon Giorgio Buon caffè Leiamo tutta sta roba Perfetto Ritorniamo a giocare Ma se ci voglio Mi invento una canzone Suggeriamo a mettere D'asso Vediamo Faccio sto livello Quasi completato Perché va scatti Perché va scatti Quanto mi va scatti Faccio due fps Letteralmente Vedo le cose In ritardo Se il registro da tablet Arriva un Non dico altro Quanto mi può scattare No ma se ho comprato Sto livello Scatti Voglio mille euro No Pensavo che c'era una jump Che è che mi suona Il campanello Mamma sto registrando Non riesco Ad aprire un gara L'ho aperto L'ho aperto Mamma Ok Perfetto Scusate per Scusate per questa parte Il tablet è pure Al 5% Perfetto Oddio Porca Pubblicità Ok ragazzi Ci risiamo Dopo la pubblicità Quanto mi laga E ho messo in carica Un attimo il tablet Perfavore Quanto mi può lagare Nella mia vita 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 schifo 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 forse che faccio 30 fps no io voglio sapere quanti fps faccio quanto ping ma perché ping c'è 1100 sicuro fps 2 minimo to massimo 1 lasciamo stare i miei dodi da cantante faccio pena papà sto gioco chi se lo pia ricopio favigene la villa da che ce la faccio 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 devo completare non me mi sto zitto non sto facendo un video faccio due frame al secondo cioè se gioco a minecraft o manco quando registro faccio due fps quando non registro sembra che ne faccio 2007 2007 perché proprio perché proprio 2007 mi doveva dire vabbè mamma è saltato da solo ma avevo ragione che all'inizio che sto gioco era un po' ritardato manca un po' troppo secondo me guarda un gioco che mi lagga ancora di più che poi non è lag questo è frame fps immagino di dare la computa e quante fps farò sicuramente di più sicuramente bastare questa stelza non ti tocca niente PAM 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 PUM 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 Cosa ho rischiato? Cosa ho rischiato? Ma quanto mi ha raggiato? A me ando a giocare ad un altro gioco che è meglio Che gioco mo Scusiamo quest'app di schifo a disinstall Ecco che si installa Vai Perfetto adesso che gioco Ah questo l'Umbercraft Craft Craft Ho fatto un potenziamento off camera Ho tipo 13 milioni di vita Milioni o miliardi? Milioni credo Milioni di vita Ho un'ascia a livello 100 Eeeh Che vedevo di So diventato forte Vodo Camera Bambu Secondo Spero che non mi laghi C'è no Perché lagga non mi lagga Faccio Spero che il frame Tu non c'è E che c'hai Aden? Non mi fai chiudere Stà Finestra no la impostazione utente non risponde ma cosa non risponde la tua bocca non risponde a una domanda quanti france faccio si babbo saluta youtube se ti va non ho salutato vabbè e quanto mi costa 400 mila per me ce l'ho 400 mila dovevo 500 però ho 400 mila io ce l'ho oggi abbiamo capito comunque qualunque gioco provo scatta come music in volta fa scattare e ma che gioco a nulla con nulla vabbè ciao ragazzi